Come annunciato nella riunione di giunta, oggi è stato approvato il piano regionale di recupero delle liste d'attesa con il quale si destinano risorse finanziarie per potenziare l'offerta di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale ai cittadini campani che durante il 2020, a causa della pandemia, non hanno soffrito dei servizi sanitari. Sono stati impartiti indirizzi operativi puntuali alle aziende sanitarie chiamate a predisporre piani di azione specifici. Nell'ambito del piano è stato altresì previsto anche il coinvolgimento delle strutture sanitarie private accreditate. A tal fine sono stati destinati 72 milioni di euro per finanziare budget integrativi per prestazioni di specialistica ambulatoriale, laboratori analisi, radiologia, cardiologia, centri diabete e tanto altro, che consentiranno il superamento di criticità nell'erogazione delle prestazioni.